Il problema della chiusura dei punti nascita negli ospedali torna alla ribalta con una storia di sanità che fortunatamente si è conclusa in maniera felice con la nascita della piccola Desiree, una neonata di 3,2 kg venuta alla luce in un affollato pronto soccorso e dopo una lunga corsa in auto. Ha partorito infatti su una barella del pronto soccorso del Luigi Curto di Polla una donna che per raggiungere l'ospedale ha percorso 60 km in auto accompagnata dal marito e questa è la distanza che separa Grumento, paesino della provincia di Potenza, da Polla e dal suo ospedale. Mia figlia sta nascendo, sono state queste le parole dette dal padre appena è sceso dall'auto con un tono di voce che lasciava trasparire gioia e paura nello stesso momento. A precipitarsi subito fuori dal nosocomio il direttore Vincenzo Isoldi, medico di turno al pronto soccorso e gli infermieri Maria Fiore e Franco Petrizzo. La donna è stata aiutata ad uscire dall'auto e una volta dentro l'ospedale c'è stato solo il tempo di sistemarla su una barella quando medico e infermieri si sono resi conto che il parto era già in atto. Sarebbe stato un rischio perdere minuti preziosi per portarla nel reparto di ostetricia e così hanno deciso di far nascere la bambina nel pronto soccorso. In pochi minuti il parto è stato portato al termine e la piccola Desiree è venuta al mondo. La neonata e la madre sono in ottime condizioni di salute e nei prossimi giorni potranno fare ritorno a casa.